Il discorso è molto complesso, non credo che la quota di adesione che ho già versato possa risolvere i problemi né di Orgoglia Maranto né della squadra. L'impegno c'è, non credo che me lo debba ricordare Orgoglia Maranto, quello che sta facendo questa amministrazione nella persona del sottoscritto dell'assessore allo sport è tangibile, visibile, è quello che in realtà è quello che chiede in questo momento una persona che ci sta mettendo non solo la faccia ma soprattutto i soldi, mi riferisco a Marco Matteoni, che nessuno obbliga a fare quello che sta facendo perché non ha nessuna veste, ma lo sta facendo. Ho pagato un mese di stipendio, credo che sia in corso di pagamento o comunque di sistemazione della questione degli steward e credo che poi ci saranno i pagamenti dei mesi successivi, diciamo quelli per i quali è indietro il pagamento nei confronti dei giocatori. Ma Matteoni ha chiesto un aiuto da parte degli imprenditori a Retina ed è su questo che ha impegnato il sindaco per trovare soggetti che diano non soltanto una mano ma soltanto che si impegnino da un punto di vista economico. Ci sono, si deve definire un po' il quadro ma ci sono, non devo dire interesse, c'è riconoscimento da parte degli imprenditori che la squadra di calcio è un simbolo di questa città e che quindi il venir meno anche di questa sarebbe una diminuzione ulteriore rispetto a una immagine che la nostra città ha già visto deteriorata e quindi c'è una sensibilità sull'argomento della quale do atto, si tratta di mettere giù i numeri e credo che la cosa possa andare avanti. Questa non è una visione ottimistica del sindaco, è uno stato di fatto delle cose. Ci saranno, credo, spero, novità importanti e positive nell'arco di un paio di giorni, 48 ore. Grazie. Grazie.